Salut ragazzi! Oggi ho ricevuto una chiamata da Clarky, vuole mostrarci una cosa speciale, vuole farci vedere come... forse fa prima a spiegarvelo lui. Ciao! Allora, devo dire grazie di essere venuto con così poco preavviso. Ieri ho visto un documentario bellissimo su tre ghepardi e la loro padrona, due sorelle e un maschio. Gli hanno montato queste videocamere piccolissime e adatte, non ingombranti, non invadenti, sulla testa dei felini e hanno visto il loro punto di vista nell'arco della giornata. Stessa cosa con una otaria, un po' più tardi nel documentario, bellissima. Mi è venuto in mente, perché non far vedere al mondo il punto di vista di Superman mentre vola? Così ho detto, proviamo! Mi stavo dimenticando di una cosa, ma Clarky... e il mantello? E' un esperimento, quindi volevo passare un po' più inosservato, non che un tipo che vola sia molto comune, e poi ingombra con questo, perché... niente mantello oggi. E' un po' più inosservato, è un po' più inosservato, Ok. E' pronto? Sì. Dov'è finito? Sì. 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 Ragazzi, ma dove è finito? Io non lo vedo. Ma... Vabbè, adesso vi appoggio un attimo, perché quando è partito mi ha fatto cadere e mi sono sforcato. Vabbè, adesso vi appoggio un attimo. 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 Spero vi appoggio un attimo. Vabbè.